allora adesso facciamo le maniche carichiamo 30 maglie per la taglia da neonato poi le altre taglie le trovate sulla mia pagina e lavoriamo sempre così una maglia la prima sempre maglia passata e l'ultimo sarà sempre un dritto qualunque punto facciamo e poi facciamo il giro numero uno saranno tutti i dritti ora io l'ho già fatto vedete qui si vedono i rovesci il giro 1 tutti i dritti il giro 2 e il giro 3 invece iniziamo la maglia accoste per fare il bordo uguale a quello che abbiamo fatto in fondo al bomberi alla giacchina quindi un dritto un rovescio questo è il giro 2 un dritto e un rovescio per tutto il ferro all'ultimo punto se volete potete farlo già con due fili utilizzando anche il bianco in questo modo fermerete meglio il filo tanto questo andrà nella cuscitura e quindi non si vedrà quindi lo fate con tutte e due fili in modo che poi questo rimane un pochino più fermo poi quando dovremo fare la cuscitura si trova meglio il cambio di colore ok quindi adesso usiamo solo il bianco quindi il verde lo lasciamo in sospeso tenete entrambi i fili verso di noi e passiamo questa maglia portiamo entrambi i fili dietro e adesso utilizziamo solo il bianco perché faremo due righe di bianco quindi il giro 4 e il giro 5 saranno sempre un dritto un rovescio quindi la prima maglia passata poi un dritto un rovescio ma con il bianco ok adesso prendiamo il verde e facciamo ancora due giri con il verde quindi ancora un dritto una maglia passata poi un dritto un rovescio per per altri due giri adesso faremo nuovamente due giri di bianco che sono gli ultimi due giri con il bianco poi il bianco avremo finito passiamo la maglia senza lavorare quindi sempre la maglia passata portiamo dietro e adesso con il bianco facciamo l'ultimo giro di bianco gli ultimi due giri quindi ancora due giri con il bianco un dritto un rovescio sempre vedete mi raccomando i dritti sopra i dritti in modo che ci venga il nostro bordo a coste e a questo punto possiamo tagliare il bianco perché con il bianco abbiamo finito quindi lasciamo sempre il codino per nascondere il filo e adesso continueremo tutto il resto con il verde quindi da qui passiamo al verde facciamo ancora due giri sempre a coste e poi inizieremo a lavorare la maglia rasata della manica quindi ancora sempre la prima maglia passata e un dritto e un rovescio per altri due giri ok quindi finito il polsino adesso iniziamo a lavorare la manica e adesso il giro numero 12 questi sono 11 giri sarà il nostro nuovo dritto quindi sarà il giro numero 1 quindi ricominciamo dall'1 adesso prendete un contagiri perché ovviamente vi servirà calcolare contare per vedere gli aumenti perché da questo giro qui inizieremo a fare gli aumenti e li faremo sulla seconda maglia sia su un lato che dall'altro e su solo sui giri dispari quindi sul dritto quindi il giro 1 è così una maglia passata un dritto poi prendiamo questo filino qua che è vedete quello che va vedete se lo tirate è lo stesso che è sul ferro lo carichiamo in questo modo sopra il ferro in modo che la codina che esca cioè la codina davanti vada alla maglia sotto la mia e lo lavoriamo a dritto ritorto quindi entriamo dietro prendiamo il filo e lo lavoriamo ecco fatto questo è un aumento poi facciamo tutti dritti fino a due maglie dalla fine ecco qua a due maglie dalla fine prendiamo il filo sempre come abbiamo fatto prima quindi entrate da dietro prendete questo filo qua lo mettete sopra il ferro poi entrate dietro con la punta del ferro entrate dietro prendete il filo e lo lavorate a dritto ritorto ecco fatto all'aumento anche su questo lato e finiamo con due dritti quindi tutti i dritti con gli aumenti uno in cima e uno in fondo i giri a rovescio li lavoreremo tutti allo stesso modo anche i giri a dritto ora poi ve le faccio vedere però giri a rovescio faremo sempre così una maglia il filo verso di noi una maglia passata e tutti i rovesci fino all'ultima maglia che però lavoreremo a dritto ecco qua il rovescio lo finiamo tutti i rovesci saranno lavorati tutti così tutti i rovesci tutte le maglie a rovescio e l'ultima a dritto in modo da avere il nostro vivagno vedete bello ordinato che poi è più facile da trovare insomma da cuscire poi rimarrà pulito anche la cuscitura il giro numero tre invece sarà un giro tutto a dritto senza aumenti quindi adesso da qui in avanti ripete dovrete guardare sulla mia pagina lo schema completo gratuito che trovate in pdf da scaricare trovate il link alla fine di ogni mio video e anche nella descrizione del video e seguendo quel video lì alternerete i giri con aumenti e giri senza aumenti secondo appunto la taglia che dovete fare quindi scaricatevi lo schema e fate tutti gli aumenti e ci rivediamo alla fine degli aumenti che vi spiego anche come fare poi le diminuzioni eccoci qua arrivati alla fine degli aumenti gli ultimi giri saranno alcuni giri senza aumenti quindi avremo un pezzettino senza aumenti per arrivare fino al giro totale che dovete fare prima delle diminuzioni e adesso vi faccio vedere come fare le diminuzioni faremo quindi una maglia passata e un dritto questo è il nostro bordo e poi da questo lato le faremo con gli accavallati quindi una maglia passata un dritto e un accavallato poi faremo tutti i dritti fino a quattro maglie dalla fine del giro come facevamo con la diminuzione del corpo eccoci a quattro maglie dalla fine e come facevamo prima sul corpo uguale facciamo due maglie insieme e due dritti quindi su ogni giro a dritto faremo così per tanti giri quanti trovate indicati sul mio schema i giri a rovescio saranno sempre uguali e cioè sempre una maglia passata all'inizio del giro quindi ricordatevi filo verso di voi una maglia passata e tutti i rovesci e finiamo sempre con un dritto quindi ripetiamo sempre questi due giri per tante volte ovviamente quanti sono indicati nello schema a secondo della misura che volete fare ecco qua quindi continuiamo a fare le diminuzioni vedete io qui sono andata avanti queste sono su questo lato con gli accavallati e di qua avremo l'altro lato con le due maglie insieme ok a se sempre seguendo lo schema quindi adesso inizieremo a fare le diminuzioni anche sul rovescio perché stringeremo di più la parte finale della manica quindi vi faccio vedere adesso come fare le stesse diminuzioni con la stessa inclinazione sia sul dritto che sul rovescio allora all'inizio del rovescio facciamo sempre una maglia passata e un rovescio e poi da questa parte dove abbiamo fatto le due maglie insieme facciamo ancora una volta due maglie insieme a rovescio quindi dove avevamo le due maglie insieme continuiamo infatti abbiamo questa inclinazione qua poi facciamo tutti i rovesci fino a quattro maglie dalla fine eccoci qua a quattro maglie dalla fine facciamo un accavallato a rovescio e lo facciamo così lavoriamo la prima maglia a rovescio poi col filo verso di noi lo ripassiamo sopra il ferro sinistro questo rovescio lavorato e con la punta del ferro tenendo in tirare bene questa che non ci scappi passiamo vedete la seconda maglia sopra e la facciamo cadere e poi ripassiamo di qua questa maglia lavorata con l'accavallato e finiamo con i due rovesci in questo modo cioè con un rovescio scusate e un dritto in questo modo vedete continuiamo anche sul rovescio a mantenere questa inclinazione appunto delle maglie verso di qua quindi adesso continuiamo a fare le diminuzioni sia sul dritto che sul rovescio fino ad arrivare all'ultimo giro dove avremo dove rimarremo con le maglie da mettere in sospeso ecco qua finito vedete questa è la punta che abbiamo ottenuto della manica con le diminuzioni più inclinate ancora negli ultimi giri adesso mettiamo queste maglie in sospeso cuciamo vi faccio vedere come cuciamo le ma la manica facciamo anche l'altra manica ovviamente le cuciamo entrambe prima di continuare con il collo faccio vedere come cucire la spalla alla attaccare la manica alla spalla allora dobbiamo essere molto precisi intanto io utilizzo il filo che con il quale ho finito il giro quindi ho messo le maglie in sospeso su una spillina e questo è il filo che va all'ultima maglia lo tirate un po in modo da stringere bene quest'ultima maglia altrimenti vi si slargherà ed entrate un paio di volte qua sotto la maglia proprio per fermare il filo io l'ho già fatto ho fatto un paio di giri dentro questa maglia in questo modo così ci passate un paio di volte stringendo bene questa prima maglina in modo che non vi si slarghi perché altrimenti poi rimarrà larga al dopo da questo lato è importante entrare bene anche in questo lato quindi io qui ce l'ho in sospeso sul filo rientro in questa maglina qui subito sotto questa del filo ecco poi adesso entriamo quindi riprendiamo al lavoro io entro quindi sempre qui in questa maglina sotto dove ho fatto un paio di giri quindi quella sotto la maglia e dentro vedete qua non nei giri di vivagno che sono queste maglie allungate che abbiamo qui ma al centro di questa maglia dritta che abbiamo fatto prima della diminuzione quindi entriamo qua andiamo proprio qua sotto la maglia e prendiamo due gambine sopra perché essendo una lavorazione piccola non importa cuscire ogni maglia ma ne possiamo fare due per volta quindi dall'alto verso il basso vedete entriamo sotto quindi qui tra questa riga al centro in pratica del dritto che abbiamo fatto prima della diminuzione in modo che ci rimanga ci rimarrà pulita questa righina qui prima proprio della diminuzione poi lo vedete dopo quindi trovatevi bene al centro di questa maglina deve essere una v che apre verso l'alto vedete il centro della maglia e prendiamo queste due maglie così non importa stringerlo troppo lo possiamo stringere dopo di qua ci andiamo a ricercare lo stesso punto quindi questa v che apre è la nostra maglia vedete se voi guardate in questa direzione vedete la maglia è una v che apre verso l'alto quindi non è questa ma è questa quindi anche qui andiamo proprio in cima ed entriamo prendendo ecco quale prime due gambine vedete entrando al centro proprio sotto la l'ultima maglia fatta e prendendo sempre queste due gambine qua in questo modo sempre dall'alto verso il basso e questo è il punto più difficile poi da qui in avanti è tutto più semplice perché dobbiamo semplicemente rientrare sempre da dove siamo usciti questa è la cuscitura invisibile quindi vedete qui questo è il filo per questo non lo tirate da subito si può tirare da ultimo perché scorrerà comunque è più facile da riconoscere le maglie quindi dobbiamo entrate dobbiamo avere sempre queste due gambine e dobbiamo essere sempre al centro vedete di queste maglie attenzione a non sbucare da questa parte o da quest'altra dovete rimanere proprio dritti sopra l'ago deve rimanere solo le due gambine qui orizzontali che sono in mezzo alle maglie e quindi facciamo sempre così dall'alto verso il basso c'è da noi verso di noi in giù prima sul lato e poi sull'altro vedete anche qui siamo entrati e anche qui facciamo la stessa cosa potete farlo sia col verde che con il bianco è uguale perché questa è una cuscitura invisibile quindi questo filo qui non si vedrà quindi vedete fate in questo modo fino alla fine delle diminuzioni dove arriveremo poi in fondo alla manica ogni tanto vedete quando avete fatto un pezzetto potete tirare un po il filo così vi rendete bene conto se siete stati precisi vedete deve venire proprio così chiuso insieme vedete in pratica abbiamo una maglina formata da mezzo bianco e mezzo verde quindi andate avanti fino in fondo ecco qua quando arrivate in fondo se vi rendete conto che una parte è un po più lungo più corta basterà semplicemente le ultime maglie ne prendete una gambina sola dalla parte che avete più lunga e lo ripareggiate non vi preoccupate troppo se vi manca un puntino o due ecco qua se avete fatto bene questo è quello che otteniamo guardate come deve venire bello ordinato e pulito il lavoro e ricordatevi che devono venire due righe dritte ai lati se siete rimasti sempre sulla stessa linea quando siete arrivati all'ultima maglia io preferisco uscire il sotto sempre con il filo perché la manica preferisco l'altro lato attaccarla sempre partendo dall'alto perché è meglio se avanza una maglina se sbagliato un punto è meglio che avanzi in fondo che in cima sotto la manica si nasconde meglio quindi io adesso qui vedete sono sull'ultima dentro l'ultima maglia dove ho fatto l'ultima diminuzione di qua mi vado a ricercare qui vedete dove finiscano queste magline che entrano sotto vedete questa maglina qui continua su quindi qui non c'è una diminuzione la prima diminuzione è questa che sparisce quindi questa è l'altezza della prima diminuzione quindi entriamo qui da quest'altra parte la chiudiamo insieme vedete le mettete bene così qui controllate uguale vedete io qui sono l'ultima maglia vedete all'altezza qui di dove è sparita la prima maglina quindi ci siamo siamo sulla stessa altezza quindi qui facciamo uguale l'abbiamo preso da quest'altra parte quindi adesso torniamo qua e ancora sempre rimanendo sempre sulla stessa linea anche qui prendendo vedete la v che apre le due gambine sotto di qua e la stessa cosa facciamo di qua quindi anche di qua ci andiamo a ricercare il punto qui dentro questa v e prendiamo le due gambine ecco e andiamo avanti allo stesso modo come abbiamo fatto prima quindi rientrando prima da una parte poi dall'altra nello stesso vedete rientriamo nella stessa maglia dalla quale siamo usciti che prendiamo altre due è uguale di qua e anche qui se poi non vi torna esattamente quando voi via via tenete la doccia poi ci sono le righe quindi dovrete far tornare un pochino le righe quindi insomma ve l'aggiustate un po se vedete entrate in una maglia da un lato dall'altro potete prendere una maglina sola per aggiustare la misura e cuociamo insomma fino al polsino ecco qua arrivati in fondo qui dove ci sono i colori fatelo in ogni maglina non a due a due e fatelo tornare quindi fate attenzione fate un po di prove semmai disfate rifate in modo che torni gli ultimi punti li chiudete sui punti proprio in cima in modo da chiudere bene il polsino sulle maglie proprio in cima così e poi le ferme li nasconderemo dopo per ora lasciamoli pure così li nasconderemo in seguito perché sempre bene averli per poterli misurare quindi vedete questa se l'avete fatta bene è quello che otteniamo del sotto della manica vedete una bella cusciturina pulita e questa è quella del davanti e come abbiamo fatto su questo lato lo ripetiamo sempre partendo dalla spalla anche sull'altro lato della manica in modo appunto che se c'è qualche errore lo recuperiamo qua sotto che non si noterà così sarà nascosto qua su l'importante che qua su venga preciso quindi prendete un altro filo e facendo sempre molta attenzione cuscite anche questo lato qua anche qui se avete lasciato il codino per fermare il lavoro con una spilla potete entrare adesso in tutte le maglie così recuperate questo codino e utilizzate questo per cuscire anche quest'altro lato quindi mettiamo in sospeso sopra una spilla tutte queste maglie contatele mi raccomando perché se ne perdete qualcuna poi vi cade e vi ritroverete un buco quindi fate attenzione recuperatele bene tutte e poi dopo che le avete tutte su una spilla e le avete contate tirate il filo e potete utilizzare questo codino qua che l'avrete di qua per cuscire la manica ecco qua cuscite le maniche e ho già nascosto un po di fili per non avere tutti i fili in mezzo questo è il risultato che dobbiamo ottenere guardate quanto è già carino adesso così e ci manca solo a questo punto il collo allora per il collo adesso recupereremo tutte le maglie che abbiamo lasciato in sospeso ecco qua mi raccomando non smetterò mai di dirvelo contate sempre bene tutte le maglie perché se ve ne scappa una vi andrà giù e vi rimarrà poi il lavoro sciupato quindi fate molta attenzione dovete essere sicuri al 100 per cento di aver caricato tutte le maglie controllatele tante volte e mettetele con il ferro in modo da poter iniziare a lavorare il dritto quindi la punta deve essere alla vostra destra con il dritto verso di voi quindi prendiamo un filo verde facciamo un nodino qua per tenerlo fermo e lo facciamo scorrere fino in cima in questo modo rimane un pochino più fermo si allarga meno lo mettiamo verso di noi perché la prima sarà sempre una maglia passata e facciamo quindi una maglia passata poi facciamo un dritto qui vi si allargherà però quando voi avete fatto il primo dritto ritirate giù tutto tenendo in tirare il codino bianco e facendo scorrere il verde tirando un po ecco in modo che vi si assesti la maglia quindi qui facciamo una maglia passata un dritto e un rovescio una maglia un dritto e un rovescio fino alla maglia prima della fine del bianco quindi fino alla penultima maglia fino qui non lavoriamo l'ultima ecco qua io ho fatto l'ultimo è un rovescio però è uguale sia che ci arriviate con un dritto che con un rovescio nel caso alle altre misure non cambierà niente perché dobbiamo fare due maglie insieme che nel mio caso dovendo fare un dritto le farò a dritto se voi dovete fare un rovescio le fate a rovescio quindi fate due maglie insieme o a dritto o a rovescio a seconda appunto di quello del punto in cui siete arrivati quindi nel mio caso era un dritto le faccio a dritto e poi continuo un rovescio e anche qui mi fermo prima dell'ultima maglia del verde ecco qua qua infatti vedete io ho fatto un dritto quindi passo il filo davanti e faccio due maglie insieme a rovescio quindi le due maglie di congiunzione le chiudiamo insieme quindi ho fatto un rovescio un dritto un rovescio e così via quindi io faccio tutto questo primo giro un dritto e rovescio ma chiudendo insieme dove io cambio il colore le due maglie tra i due colori quindi io chiuderò insieme tutte queste maglie qua o a dritto o a rovescio a seconda del motivo in dove sono in quel momento ecco finito il giro mi raccomando sempre un dritto e un rovescio e se non avete fatto errori finiamo sempre con un dritto e abbiamo fatto quattro diminuzioni su questo giro facciamo un'altra piccola diminuzione qui sempre nello stesso punto ma adesso la faremo doppia ora vi faccio vedere come per via del motivo a coste quindi dobbiamo chiudere due maglie contemporaneamente altrimenti non ci tornerà più il motivo e quella sarà l'ultima diminuzione quindi adesso arriviamo qui a una maglia prima di questa dove finisce il bianco quindi ricominciamo il giro sempre nello stesso modo come abbiamo fatto fino qua quindi una maglia passata filo dietro un dritto e un rovescio ecco qua quindi questa dove avevamo la maglia adesso la tiriamo su la facciamo una maglia passata poi facciamo due maglie insieme ma qui le possiamo fare tranquillamente a dritto poi il motivo lo recuperiamo dopo due maglie insieme e accavalliamo la maglia passata in questo modo vedete qui questo era un dritto questo sarà il nostro rovescio e poi ricominciamo con un dritto questo modo abbiamo chiuso due maglie così non perdiamo il motivo e qui facciamo uguale sul alla fine anche dove avevamo fatto l'altro diminuzione quindi anche qui arriviamo alla maglia prima al prima dell'ultima maglia di verde teniamo il filo dietro facciamo una maglia passata due maglie insieme e poi accavalliamo questa maglia passata ecco qua un'altra diminuzione doppia e anche qui avevamo fatto un rovescio quindi questo è un dritto e questo dopo è il nostro rovescio infatti vedete qui adesso abbiamo il rovescio perché deve tornare ovviamente il motivo quindi la stessa cosa la facciamo anche da quest'altra parte quindi ci fermeremo qua prima dell'ultima maglia di dritto quindi al centro deve rimanere sempre questa che è quella che abbiamo fatto le due maglie insieme quindi questa la faremo maglia passata chiudiamo insieme queste due di qua uguale comunque sempre sullo schema trovate tutto quindi finiamo anche questo secondo giro del collo ecco qua quindi finito anche il secondo giro e siamo nuovamente sul dritto del lavoro adesso abbiamo fatto otto diminuzioni 2 4 6 e 8 queste sono le maglie che ora ci porteremo fino alla fine adesso quindi faremo due righe di verde e due righe di bianco come abbiamo fatto nel polsino alternandole allo stesso modo quindi adesso io non sto farvi rivedere tutto se non ve lo ricordate basta che tornate all'avvio e fate le stesso lavoro identico che avete fatto all'inizio e andiamo avanti così quindi e poi vi dico per quanti giri in totale vi faccio vedere il lavoro ecco qua finito allora io ho fatto 1 2 3 4 5 giri di verde 4 di bianco intervallati ovviamente in questo modo come ne ho fatti praticamente il doppio perché io adesso questo lo cuscirò così a metà in modo da avere un bordo morbido e non avere proprio la chiusura così dritta per il collo del bambino tagliamo il filo abbastanza lungo per poterci fare la cuscitura sempre il verde allora infiliamo quindi il filo sopra il nostro ago da lana poi pieghiamo in questo modo prima chiudete fili adesso vi faccio vedere come fare poi tanto io lo rifaccio allora con questo il filo che viene direttamente dalla prima maglia prendiamo proprio la maglina d'angolo qua giù in fondo questa pari diciamo al verde e la stringiamo così poi entriamo dentro la maglia la prendiamo ripassiamo in questa prima maglia dove siamo appena entrati ecco qua scaricando l'appunto dalla punta del ferro poi prendo la seconda e la terza due maglie insieme e le chiudo qua sopra questa dritto diciamo vedete perché una maglia a coste questo dritto qua in questo modo poi ancora ne prendo due e le chiudo sopra il prossimo sempre prendendo vedete le due magline del verde questo qui dove ci dobbiamo riattaccare quindi facciamo così per tutto il giro prendo due maglie e le chiudo vedete proprio sopra le due gambine del della maglia a coste ogni tanto date due puntini cioè tornate indietro vedete qui su questa maglia dove sono entrata rientrateci ogni tanto per fermare il filo in modo che poi non rischiate di tirare e stringere tutto tenerlo fermo ogni ogni tanto non importa che lo facciate spesso ogni tanto fate due puntini in una maglia dove siete già entrati e poi andiamo sempre alla prossima e controllate tirandolo di non stringerlo cioè non lo dovete stringere deve rimanere vedete sempre bello morbido ecco qua finito questo è quello che otteniamo vedete il collettino in questo modo viene bello stondato e a me piace di più qui adesso rimane solo da attaccare i bottoncini in corrispondenza dei nostri occhielli e il giacchettino è finito spero vi sia piaciuto sulla mia pagina trovate lo schema completo tutte le foto per poterlo realizzare grazie a tutti